ruolatrici e ruolatori buon pomeriggio benvenute benvenuti a questo nuovo appuntamento con le nostre live ovvero il need news un format dove più istituzionale se così possiamo chiamarlo dove parleremo delle novità inerenti a need games inerenti a tutto ciò che riguarda i nostri prodotti i nostri partner gli eventi che organizziamo e per aggiornarvi su tutto quanto come sapete questa qua è la prima settimana del nuovo panisesto lunedì è la giornata dedicata a need details ovvero chiacchiere sul mondo del gioco di ruolo che può comprendere veramente tutto quanto non solo giochi nostri dove si chiacchiera di tutto e che soprattutto ha una scaletta il mercoledì need play è iniziato ieri dove facciamo giocare i nostri giochi con nostri amici e con membri del proprio di need games e giovedì invece need news dove parliamo appunto in maniera più istituzionale dei nostri dei nostri prodotti nico ti vedo poco putrefatto questa sera sono sorpresa ma chris sai che mi sto mi sto canando no perché è collegato al microfono sbagliato mi sembra che sia collegato giusto cioè mi da mi da rode il rode corretto c'è qualcosa che mi proviamo a vedere se c'è qualcosa filtri se c'è qualcosa che va da va da tutto per una volta che va che vanno le cose vi da fastidio il microfono microfono sbagliato perché dite questo vediamo che impostazioni proprietà avete ragione ragazzi come sempre sono io che ho torto e voi avete ragione sì sì no infatti adesso adesso va bene c'era quello non era il rode quindi sto zitto e abbozzo e porto e porto a casa come prima di intel esatto esatto avevo il microfono della camera sì avete avete perfettamente ragione avete perfettamente ragione comunque appunto siamo molto molto contenti sinceramente di questa prima settimana di queste nuove programmazioni questo perché lunedì nei tels è l'erede diciamo di pranzo di ruolo non solo che lo facciamo in più strutturato mentre prima pranzo di ruolo io lo gavo e andavo a braccio su quello che mi parlava mi pareva adesso invece seguiamo un pochettino quello che è la newsletter se non vi siete iscritti molto semplicemente grazie squara per la sub grazie mille punto esclamativo newsletter e vi porta link per iscrivervi perché è molto 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 figo vi faccio vedere quella che sta arrivando a tutti quanti voi a tutti quanti voi oggi la newsletter è veramente poco ingomerante ok non spacca non spacca le balle assolutamente è molto molto semplice vi arriva due volte la settimana il lunedì e il giovedì il lunedì con la scaletta di tutto quello che faremo durante la settimana e novità il giovedì invece contenuti nuovi informazioni sui nostri giochi e via dicendo io spero che vi piaccia che sia un servizio che potete essere utile assolutamente zero spam e se vi spacca le balle la togliete allora la newsletter di oggi ve la ve la ve la leggiamo ve la leggo così almeno capiteli che cosa tratta newsletter due mela settimana il lunedì gli appuntamenti della settimana il giovedì un bel che un tenuto per tutti gli appassionati di gioco di ruolo approfondimenti consigli interviste e persino dungeon e avventure niente spam il mondo need games tutto comodamente imbustato nella tua casella email scopri il contenuto di oggi dungeon 24 12 piani 366 stanze un piano al mese ce la farà nicola portare a termine la sfida scopriteli insieme a noi intanto ecco i primi due piani del mega dungeon e voglio farvelo vedere benvenute benvenuti a tutti e voglio perché è molto importante per me dungeon 24 su cui è scritto a manina da me quindi proprio sul mio meraviglioso remarkable 2 lo scrivo a mano lo trovo veramente veramente sapete un programma di utilità folle quindi c'è mi trovo benissimo col remarkable è quello che io consiglio so che ha un costo economico ma prendetelo tutti piccola parentesi master giocatori allora dungeon 24 vai nicola lasciamo la parola al degobbis che è meglio si vede che quella scritto marchino è vero su quello ho scritto io in prima persona quando mi hanno chiesto di presentare cos'è dungeon 24 quindi ci tengo a leggerlo così lo leggiamo assieme allora prima di iniziare a parlarvi di che cos'è il progetto dungeon 24 voglio fare una piccola premessa sono il re dei procrastinatori e non sono mai stato bravo a seguire con costanza un progetto a lungo termine verissimo ragazzi sono veramente veramente il re dei procrastinatori a capodanno quest'anno quando pensavo ai buoni propositi per il 2024 oltre ai classici mi scrivi in palestra mi rimetti in forma smetto di fumare eccetera eccetera mi è venuto in mente il bellissimo progetto nel 2023 realizzato dall'autore di mothership role playing games sean mccoy ovvero dungeon 23 dungeon 23 è stata una sfida per ogni appassionato di osr di dungeon crawl creare un mega dungeon di 12 piani uno al mese realizzando 365 stanze una al giorno tosta eh l'anno scorso mi sarebbe molto piaciuto partecipare ma sapevo che il 2023 sarebbe stato un anno intenso e non ho neanche iniziato perché non sarei stato costante visto però il mio amore per lo school e per il dungeon crawl quest'anno mi sono detto nico ma perché non fai dungeon 24 giochi un botto a dose ti piace il weird e scrivi un sacco di stanze i dungeon fallo per te ogni mattina mentre fai colazione ti scrivi la tua stanza e la pubblichi su instagram che ti frega se esisteva dungeon 23 alla fine è qualcosa che fai per te pensa che figata sarà fine anno vedere un mega dungeon con 366 stanze questo l'ho pensato davvero ragazzi e ragazzi mentre ero a caso ho fatto il capodanno da solo quest'anno perché ero con da solo ero con mia figlia con il più bel capodanno del mondo a mezzanotte stavo giocando a final fantasy ho detto i buoni propositi soliti cose voglio fare dungeon 24 mi piace molto school essential mi piace molto il dungeon crawler e così l'ho fatto ho accettato molto volentieri allora così ho iniziato e sapete una cosa mi sto divertendo come un pazzo a progettarlo e sono anche costante o almeno abbastanza costante nell'esatto momento in cui scrivo l'ho scritto oggi questa cosa qua ho disegnato le ultime dieci stanze e messo un po di note ma devo ancora effettivamente scrivere il test in modo leggibile quando dico questo per far vedere che in realtà lo faccio anche se sono un procrastinatore seriale vi faccio vedere cosa intendo è che quando ultimamente non sono stato molto bene al mattino dormivo sempre male quindi ero il mattino sono veramente in coma che cosa faccio mi riprometto di fare la cosa più lunga quindi disegnare la stanza quindi le ultime dieci stanze di dungeon 24 sono come potete vedere le prime sono tutte così vedete che c'è anche il testo sotto le ultime dieci sono così ho disegnato le stanze ma mi manca il testo sotto quindi devo 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 recuperare questo weekend questo weekend e recupererò assolutamente ho accettato molto volentieri questo progetto vi continuo a leggere il quello che ho scritto per due motivi il primo è la community di games che mi spronerà a portare avanti il progetto con costanza fino al 31 dicembre il secondo è marchino perché di solito schifa tutte le mie idee e voi lo sapete molto bene invece questo giro qua gli è piaciuta quindi sono felicissimo che questo gli sia piaciuto quindi ecco a voi i primi due piani dungeon 24 quello di gennaio di febbraio scritti con cuore e compassione pieni di tutto quello che mi piace trovare dentro i dungeon ci sono errori di sicuro le stanze sono coerenti assolutamente no sono divertenti assolutamente sì spero possiate divertirvi a giocarli o semplicemente a sfogliarli magari vi daranno delle buone o terribili idee per i vostri dungeon adesso andate a morire male dentro a dungeon 24 noi ci vediamo ad aprile per un nuovo piano e qua gratuitamente ve lo scaricate lo scarichiamo e lo faccio vedere ecco fatto apriamolo a che bello che l'ha fatto marco l'ha tutto infiocchettato per bene gennaio vedete qua a destra poi c'è a sinistra il il dungeon piano come vedete fatto malissimo a mano ce l'ho fatto proprio per me e poi iniziano tutte le stanze sono un boato ve lo scaricate gratuitamente e scrivetevi alla newsletter ve lo scaricate tutto quanto gratuitamente e ci sono tutte le stanze il primo il primo dungeon vi porto un attimino alla mappa e si vede il mouse no mi sembra di aver fatto il grab del mouse allora il primo vedete ha tre come si dice no ali e si tre tre aree tematiche diverse quello totalmente a destra è un'area totalmente dedicata ai miconidi quindi un dungeon di funghi quello nel mezzo è un dungeon di di non morti e quello invece a sinistra è un dungeon dedicato ai cavalieri alla prova dei cavalieri il secondo piano invece questa pagina 32 vediamo è il 31 gennaio e febbraio è dedicato è un piano dei dungeon degli insetti piano 2 il piano degli insetti totalmente è un piano con gli insettoidi zozzi osceni con la stanza del doio dei lottatori di sumo scarafaggio il laboratorio alchemico con la blatta pazza la stanza di meditazione delle api la stanza di produzione del miele e via dicendo il salone degli antichi e tutto quanto il terzo piano invece quello che sto facendo adesso di di marzo è un piano totalmente sommerso sott'acqua dove ci sono tre fazioni la fazione dei crostacei la fazione dei pesci e la fazione e la scusatemi la fazione dei dei mammiferi quindi l'ho fatto esattamente così grazie grazie indy e lo questo qua lo finirò il 31 marzo poi ad aprile sempre con la newsletter vi verrà dato è molto bello dungeon 24 a me è un progetto che è piaciuto molto poi ve lo potete giocare siete con gli amici volete fare un mini dungeon crawl prendete delle aree le buttate dentro l'ho fatto con ose e quindi trovate anche stat di nemici trappole i tiri che i tiri salvezza e tutto con ose adattabile a qualsiasi gioco all school senza ben che minimo problema a me piace moltissimo ose stasera tra parentesi finisce la mia campagna che va avanti da più di un anno sul le tracce di cthulhu la prima ora la finiamo mi devono fare la conclusione i giocatori con un po di magone è sempre bello quando finisce una campagna molto molto sazia e poi dalle 10 invece iniziamo la nuova campagna che è il castello degli amber giocata con ose non mastererò io ma mastererà batta che ha avuto modo di vedere ieri mouse ritter è il giocatore che interpreta rucola e giochiamo il castello degli amber che è una delle avventure più storiche le avventure storiche più belle che siano mai state fatte per secondo me per il vecchio gioco per il semplice si sai che ne abbiamo parlato se non sbaglio pochissimi giorni fa o forse durante le news che mi chiedevano se lo localizzavamo e non lo so ancora sai poi quanto amo quanto amo l'osr quindi cerco veramente di giocare a più cose più cose possibili assoluto allora a parte che lupacchiotto sta chiedendo una cosa io per dungeon 24 ho da recuperare 10 stanze ma non riesco a trovare l'ispirazione per il piano che sto facendo te come prendi l'ispirazione? allora lupo io sono fortunato perché ho il dono dell'improvvisazione quindi non ho mai avuto blocchi cioè per dirti so già come sarà il piano di aprile sarà che ho letto migliaia di moduli avventure ho letto migliaia di libri ho visto migliaia di anime quindi non ho problemi ce ne farò sicuramente dopo un piano ogni piano dedicato agli elementi ci sarà un piano del fuoco un piano del ghiaccio un piano della terra un piano dell'aria ci sarà un piano che è totalmente dedicato a tipo pacman quindi proprio il piano sarà forma di fantasmino di pacman e sarà tipo sci-fi retrofuturistico gonzo ci sarà un piano totalmente dedicato a una foresta sommersa che con un portale manda un'altra dimensione ci sarà un piano dedicato a Eberron che in realtà sarà un grande palazzo di una città quindi non ho mai avuto problemi da questo punto di vista ovviamente l'ultimo piano sarà la luna dove ci saranno i boss finali dei vari piani tutti in ogni stanza quindi per fortuna non ho mai avuto blocchi di scrittura più che altro quindi mi sto divertendo veramente veramente moltissimo adesso per dirti mi manca da scrivere le stanze ho preso degli appunti quindi cosa mi sono diviso Kids on Bikes la prima edizione non verrà più stampato la prima edizione chi vuole capire capisca vi ho detto che abbiamo molti altri annunci da fare li faremo a tempo debito li ho scritti però ho scritto dieci ogni mese la prima stanza è la stanza di diciamo l'overture e poi ci sono dieci stanze dieci dedicate alla fazione dei pesci dei crostacei dieci alla fazione dei pesci dieci alla fazione dei mammiferi quindi adesso ho iniziato ho finito quello dei crostacei sto facendo quello dei sto finendo quello dei pesci e poi mi attacco quello dei mammiferi questo weekend volevo completarlo tutto ragazzi ragazzi cosa è importante oggi naturalmente vedremo tutta la newsletter poi facciamo un production update con i prodotti del play poi parliamo della call for master di Navigavia ciò non toglie che se avete domande però per la need news legate ai nostri prodotti hai informazioni sui nostri prodotti fatemene ok è questo il contenitore ideale per parlare di queste cose molto fighe come cose forse è un mio problema non tanto di conoscenza di non tanto di conoscenza di Osi in fondo Osi è anche un gioco con dungeon stravagante quindi devo viaggiare più per l'immaginazione Dragonbane preorder non apriremo i preorder per Dragonbane Dragonbane si comprerà in fiera lo vedremo dopo oggi vi farò vedere anche Dragonbane il pdf di Dragonbane quindi andiamo abbastanza veloci che il tempo è tiranno e abbiamo tantissime cose cui parlare voi naturalmente se avete domande fatemele e le guardiamo le guardiamo le guardiamo assieme vi rispondo vi rispondo assieme allora eravamo rimasti a dungeon 24 ve l'ho fatto vedere dopo scusatemi allora Navigavia 20 di rivolta multitavolo di Navigavia al play quest'anno tra i vari eventi che faremo ci sarà anche appunto la la mega multitavolo di Navigavia sarà la multitavolo più grande mai ospitata a Modena Play con più di 200 giocatori più di 40 master più di 20 persone di staff sarà un qualcosa di grande perché ci chiediamo ci crediamo tanto Navigavia sta andando benissimo vi occuperà all'incirca dalle 10 alle 1 e mezza alle 2 di tempo sarà un evento GDR molto molto grande Call for Master risponde all'appello delle repubbliche legate nella prima epica multitavolo di Navigavia insieme al cast dello show di Intel si salpa verso un'avventura mozzafiato che assicurerà grandi duelli incredibili battaglie e un mare di risate le iscrizioni per i giocatori apriranno presto ma intanto c'è bisogno della ciurma che renderà possibile tutto questo via con la Call for Master i GM hanno diritto a un biglietto gratuito per la manifestazione valido per sabato e domenica e un gadget unico di Navigavia questa è la Call for Master quindi volete venire a masterare Navigavia? non ci sono problemi venite masterate duro cioè come si fa? candita come GM e via vi ricordo che queste qua sono le cose che escono con la basta vedete la newsletter non è invadente dopodiché c'è una piccola parte con gli ultimi articoli e le ultime offerte dello shop basta a questo punto fatevi vedere la 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 newsletter vorrevo farvi vedere la cosa bellissima che è iniziata ieri ovvero i rappi i ratti di campo di grano abbiamo attivato il mercoledì il need play sono rimasto sorpreso da quante persone c'erano ieri quindi grazie grazie a tutta la community dove a differenza degli altri eventi che ho fatto in live voi ne ho masterati veramente un un sacco un sacco questa volta è diverso dicevo sono totalmente a mio agio perché gioco con i miei amici a dire la precisione gioco col mio gruppo cioè il mio gruppo della mia campagna con cui gioco ormai da più di due anni ci sono tutti in più c'è solo l'Erika che voleva giocare Erika è la nostra grafica è un membro di Need Games che voleva tanto giocare a Mouth Street e quindi abbiamo detto guarda vieni a giocare con noi abbiamo avuto una defezione perché giochiamo dalle 6 e mezza alle 8 e mezza vieni e quindi Erika è venuta a giocare con noi i quattro personaggi che vedete tra parentesi sono stati disegnati da Federico Munari Mini chi ci frequenta le fiere chi conosce Need Games lo conoscerà molto bene sono bellissimi e sono i disegni dei personaggi ed è appunto sono quattro puntate dal 20 marzo al 10 aprile una volta una volta finito la campagna ci sarà la Nidiscord dove per tutto il weekend sabato e domenica faremo giocare Mouse Reader sul nostro server Discord quindi avrete anche possibilità di giocare di giocare a Mouse Reader per provarlo si è Mini è proprio è un illustratore Chris non so se lo sapevi c'è proprio il suo lavoro è bravissimo ieri sera c'è stata la prima sessione potete già recuperarla in WOD qua su Twitch e verrà caricata sul nostro canale YouTube è stata estremamente divertente molto bella e la prossima campagna verrà masterata da un altro membro di di Need Games non la mastererò io io probabilmente farò il giocatore e faremo così ed è anche un membro della community quindi c'è prenderemo master della community master i nostri amici membri dello staff di Need Games quindi magari una volta mastererà Pedro una volta magari mastererà Albi Marchino c'è tutti quanti noi a giro perché non c'è modo migliore che presentare un GDR e passatemi il termine vendere un GDR se non farlo vedere e farlo giocare brav grazie grazie Unicorn che è buon dato che hai mandato il link il link all'Instagram di Mini ve lo faccio vedere anch'io siamo qua se qua sono proprio i suoi disegni cioè è molto bravo molto 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 bravo Mini so che tutti pensano che Mini sia un grandissimo casinista ma in realtà è un bravissimo artista e appunto visto che questo qua è un progetto che prende amici di Need Games e è è è la cosa per chi vuole scoprire i lavori Mini grazie Unicorn SparkleBast assolutamente d'accordo ho acquistato Fabula e altri GDR per averli provati con alcune one shot vedo che il link per il Discord sotto nella descrizione non funziona ve lo passo io scusate magari è scaduto se mi date un secondo ve lo passo guardate ve lo do qua al volo pa 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 eccolo qua scusatemi non vedo assolutamente nulla Need Games è in vita eccolo qua link copia ecco fatto così ce l'avete il bello del gioco è interpretare l'impresa per le piccole cose sì davvero davvero ieri ad esempio ho descritto ai giocatori quello che loro pensavano fosse un totem di un culto delle persone alte non sapevano cosa fosse era questa specie di statua messa in mezzo all'erba alta che rappresentava un piccolo essere umano con un cappello a punta fondamentalmente era un anno da giardino ma loro lo loro non sapevano cosa fosse è stata una veramente una bellissima sessione poi ragazzi chi si loda si imbroda per il nome di dio non è corretto dire è stata una bellissima sessione perché dovete giudicarlo voi io posso dire è stata una sessione dove cos'è successo aspettate obu usiamo questa camera perché è saltata ma io sono pro tac e ho la camera di emergenza non so neanche io come sia possibile sta cosa bellissimo la riposiziono oppla là perché la camera usb è esplosa non so perché non chiedetemi cosa sia successo anzi fatemi vedere se riesco a risolvere dal video anche questo questo problema ormai sono schillato cosa è successo camera mia bella eccoci qua eccoci qua ormai ragazzi la tecnologia non ha più segreti per me abbiamo preso la camera nuova infatti si vede c'è una bellissima però non so perché si è spenta magari ho toccato io qualcosa o dopo è accesa da tantissime ore perché abbiamo fatto riunione stamattina alle 10 quindi magari ogni tot non è stata una bellissima sessione è stata magnifica grazie lupo sono contento vi sia piaciuto se qualcuno l'ha visto l'ha visto ieri datemi i vostri commenti mi sono molto utili anche critica ovviamente naturalmente poi per chi mi conosce Chris quindi per te sarà anche strano ho seguito le regole RAV cioè rule is written perché se vogliamo farvi vedere un gioco è giusto che io non ci metta del mio oltre diciamo a enfatizzare a ruolare ma le regole devono essere esattamente così sono scritte così non avete sorprese quando aprite il manuale vedete esattamente leggete esattamente quello che avete potuto apprezzare durante le live perché sennò non sarebbe non sarebbe corretto ed è stato è stata una bellissima esperienza veramente una bellissima esperienza mi è piaciuto tantissimo quella scena ah grazie sono proprio sono proprio contento si è visto ti giuro esatto esatto Chris proprio seguo le regole è stato molto molto divertente per conto avevo scritto un piccolo donjonettino con quattro stanze quindi nulla di che hanno visto neanche la prima e hanno mandato in bacca tutto quanto cioè proprio subito cioè proprio divertente divertente non c'è male è stato molto molto divertente allora quindi se volete recuperatevi anche mouse reader ciao nicola finalmente dovete fare live ora tocca fare una bella run su baldur's gate 3 posso chiedere un parere su un gdr non vostro ok di solito lo utilizziamo lunedì però se vuoi chiedere un parere te lo do se lo conosco ovviamente quindi magari non lo conosco come gioco di ruolo o magari o magari sì torniamo a noi scusatemi perché intanto intanto vado indietro e riprendo e riprendo le cose abbiamo parlato della newsletter abbiamo parlato di mouse reader vediamo adesso il no ma perfetto il production update per ciò che riguarda i prodotti in uscita al play e vediamo anche qualcosa poi mi dite anche voi che cosa volete vedere perché sono le 5 e mezza c'è un sacco c'è un sacco di cose quindi a vedere anzi no parliamo prima della call for master di navigavia così vi linko anche il link se qualcuno vuole partecipare lo vediamo assieme allora aspetta che indy dice io spero di poter vedere qualche vostra sessione ora che seguo il canale lo so vedere quando sono libero visto che mi assaltano molti amici per il master e per il tnd allora indy considera comunque che noi ricarichiamo tutto sia in vod vabbè qua su su twitch che puoi vederlo senza nessun tipo di pagamento cioè basta che segui il canale ti iscrivi al canale lo vedi ma soprattutto lo ricarichiamo su youtube su needgames tv quindi quando vuoi ci metti se si ridurano un paio di ore grazie Loddo per seguirci quindi trovi trovi tutto quanto lì allora navigavia al play call for master repubbliche legate anno 1670 sono passati sei mesi esatti da quel giorno un disastro del genere non si era mai visto nelle repubbliche legate e la cosa peggiore è che nessuno ha ancora capito come sia stato possibile negligenza della manutenzione delle tubature sabotaggio un semplice errore umano fatto sta che la situazione in città sta degenerando le grandi famiglie stanno perdendo consenso strane sparizioni avvengono nella flottiglia della notte perpetua e come se non bastasse qualcosa ci osserva dal profondo delle acque serve che qualcuno possa riportare la calma servono degli eroi rispondi all'appello delle repubbliche legate nella prima epica multitavolo di navigavia domenica 19 maggio dalle 10 a modena all'interno di play festival del gioco in sala 400 fino a 200 giocatori appassionati navigavia si ritroveranno per dare vita a un evento imperdibile insieme al cast dello show d'intel si salpa verso un'avventura mozzafiato che assicurerà grandi duelli incredibili battaglie e un mare di risate partecipare all'evento è gratuito ma richiede il biglietto di play per la giornata di domenica o l'abbonamento l'evento è realizzato in collaborazione con i nostri cari amici di polentology le iscrizioni per i giocatori apriranno presto ma intanto c'è bisogno della ciurma che renderà possibile tutto questo via con la call for masters per candidarsi come GM basta compilare questo form e attendere risposte e conferme in qualche giorno i GM hanno diritto a un biglietto gratuito per la manifestazione valido per sabato e maggio e a un gadget unico di Navigavia la deadline per le candidature è fissata il 14 aprile e per qualsiasi domanda potete rivolgervi a multitavolo.navigavia coccola gmail.com per masterare e lasciare o conoscere 7C e le sue regole mentre per giocare potete essere anche neofiti sia del gioco che dell'ambientazione saranno disponibili personaggi pregenerati ma sarà anche possibile presentarsi con le proprie roe fresco di creazione vi aspettiamo sulla Navigavia alla via così quindi questo è tutto quello che c'è da sapere sulla sulla call for masters di Navigavia ciao ci potete dare quella news che durante l'evento non avete potuto darci per i responsabili in ferie scusa Cristian quale news se mi rinfreschi magari ti posso dire se è sulla call for masters c'è tutto l'articolo c'è tutto l'articolo qua lo trovate facendo il comando punto esclamativo Navigavia trovate tutte le informazioni ma adesso vediamo un po' di ciccia la ciccia la ciccia allora uscite di play e production update siamo a marzo ma il play si avvicina quest'anno puntiamo a una grande edizione con grandi eventi grandi ospiti e ovviamente grandi giochi e giochi grandi pure scuai marchino quando ci sono state risate del cazzo è marchino ecco le nuove linee editoriali che faranno il loro esordio questo mangio se non ricordo male era una nuova ah no 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 se ho capito Cristian no torna oggi torna oggi la news avrà un need news dedicato perché è talmente grande come gioco che ci sarà una una need news dedicata non appena abbiamo l'ok ad annunciare molte persone ci hanno già azzeccato mi hanno scritto molti in private mi hanno detto ma è questo il gioco è questo il gioco che farete io sono stato zitto non posso dire nulla però in molti hanno azzeccato quindi se quasi qualcuno che mi ha scritto quel titolo del gioco ha avuto la risposta non posso dire nulla sapete che ci avete azzeccato allora Dragon Bane Free League chi mi conosce sa il mio soft spot per tutto il genere old school in generale e Dragon Bane è una perfetta unione tra diciamo old school e quinta edizione è molto bello ma facciamo che vi faccio vedere proprio il pdf scusatemi così almeno ops faccio un casino scusate ecco così almeno lo vediamo lo vediamo assieme allora fatemi aprire la cartella non ho preparato i vari pdf abbiate abbiate pazienza scusatemi ma ero in live da entele sono arrivato subito ce sto facendo come un pazzo la Dragon Bane non posso farvi vedere la cartella con tutti i nostri giochi perché sono abbiate un sacco di spoiler di giochi che non abbiamo ancora annunciato allora manuale base allora qual è l'ultimo ricevuto il 17 marzo ecco no se questo vuoi la cover non c'entra assolutamente nulla eccolo qua 20 marzo fresco fresco proprio di mandato in stampa allora ciao 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 fra ciao fra chiapagiolo perché parliamo pam Dragon Bane se vedete dei commenti sono quelli appunto del nostro proof che abbiamo fatto candidatura multitavolo mandata spacchiamo tutto bravo anche per Dragon Bane faremo qualcosa per mouse eater sì guarda ve lo posso anche dire sarà il terzo gioco probabilmente il terzo il quarto gioco che faremo giocare in live durano quattro sessioni in uno mi sta che Dragon Bane lo porterò proprio io mi piace troppo mi piace troppo 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 il manuale base come sta facendo Free League che fa il manuale base il bestiario poi noi faremo anche il manuale delle avventure facciamo una slip case dopo chiederemo in omaggio chi compra i tre volumi quindi sarà tutto quanto assieme facciamo così perché al momento poi uscirà anche tutto quello che c'è nella scatola che sia chiaro però al momento fare la scatola in Cina è un casino la produzione perché è pieno di pirati quindi quello che avevamo mandato in stampa l'abbiamo fatto le altre cose le abbiamo messe in stand by con la Cina perché se no se passati da 3-4 mesi di produzione a 6-8 mesi ed è incredibile allora spiegate una domanda fuori luogo Black Sword Hack e World of War li conosci? sì li conoscono sono di Mary Marshman però sono basati su Black Hack che è un nostro gioco quindi non li faremo Green Dorian mi dispiace questo qua è il manuale base il manuale base ha tutte le regole per giocare dentro più un'avventura diamolo un pochettino assieme è semplicemente meraviglioso banalmente perché c'è la più bella stirpe che esista oltre al nano ovviamente è inutile che ve lo dica che la più bella stirpe di Dragon Bane è il maillardo l'origine dei maillardi avvolta nel mistero alcuni studiosi affermano che arrivarono da un potente regno insulare che fu sommerso dal mare migliaia di anni or solo facciamo la voce vi sto facendo i corsi di dizione facciamo la voce altri credono che siano il risultato di un esperimento magico fallito qualunque sia la verità questi umanoidi pennuti sono una vista comune nel mondo sono portati per il commercio e il loro starnazzare agitato è spesso parte integrante del sottofondo di mercati e carovani tuttavia certi maillardi cercano fortuna come briganti pirati o mercenari nonostante la loro taglia ridotta in battaglia sono feroci e temuti da molti per la loro furia o micidio semplicemente meravigliosi non ci sono altre parole per descrivere i magliardi cioè nel senso belli e basta poi ovviamente ci sono i lupinidi che tutti quanti amano i lupinidi però io ho sempre giocato o il nano o il magliardo cioè banalmente tutte regole prestirpe le varie classi tra cui l'artigiano è il top artigiano bardo cacciatore cavaliere guerriero ladro mago marinaio mercante studioso prego notare che bello è paperon de paperoni c'è un qualcosa di incredibile dopodiché sono tutte le regole come fare i tiri con tutte le regole per il gioco sono veramente molto semplici vi voglio far vedere un mostro perché è un qualcosa di meraviglioso come funzionano i mostri in dragonbane uso il suo sistema proprietario è fondamentalmente un è un ibrido tra il vecchio modo tra il back me e la quinta edizione si tirano si usa il di 20 per fare i tiri però si tira sotto quindi 1 è successo 20 è fallimento perfetto friday tu sei un di 20 rolander banalmente volevo farvi vedere un mostro scusate allora guardiamo un mostro a caso facciamo un mostro tranquillo non un goblin guardiamo il goblin che il goblin ragazzi è quello che sancisce sempre tutto però il goblin è quello che non ha il d6 per i tiri perché è una merdina guardiamo guardiamo il grifone come funziona vedete che qua a lato c'è attacchi mostruosi innanzitutto i nemici attaccano sempre cioè si colpisce sempre la cosa più bella di tutte si colpisce sempre ogni volta che si gioca di ruolo c'è sempre l'adesso che attacco faccio tu lanci una freccia a distanza a me piace molto ruolare i combattimenti non non sono batta ad esempio c'è batta in cui gioco spessissimo ruoliamo tanto i combattimenti perché se no è il classico ok Nico ho tirato il di 20 quanto ho fatto ok 15 colpisco classe armatura 4 un di 6 danno ok ho fatto 4 danni no è una rotura di balle no tiro ok ho colpito salto con la mia spada cerco con la forza dell'occhio di non vederlo quando vedo che si distrai lo abbatto però ho fatto solo 4 danni quindi vorrei possibilmente ferirlo al braccio le faccio un taglio molto profondo sul braccio sinistro questo capite è tutta un'altra cosa è dire ho fatto 4 danni i giocatori hanno molta creatività sui loro personaggi il master deve usare tantissimi personaggi qua banalmente cosa faccio tiro un di 6 ho fatto 2 assalto rampante il grinfone si impegna davanti un pg e tenta di sventrarlo con di 6 rapidi attacchi ogni attacco infine di 8 dall'italiente può essere schivato o parato ma soltanto uno per volta pam quindi no no lo fai tirare dopo dopo il risultato del dado brighter ovviamente chi gioca a 5 anelli sa che prima si tirano i dadi poi si ruola quindi questa qua è una cosa molto bella di dragonbane appunto che ti dà gli attacchi dei nemici come vedete ce li hanno tutti quanti vediamo ad esempio un orco madonna che meraviglia animali comuni ma meraviglioso questo manuale è una chicca con i vari tipi di attacchi mostruosi che vengono fatti illustrazioni ovviamente sono la fine del mondo e via quindi questo è perciò che concerne dragonbane in uscita al vi faccio vedere ancora la copertina non so se vi ho fatto vedere o meno la copertina datemi un secondo così almeno vedete anche la copertina vi leggo la cosa migliore che è il back della copertina ovviamente con pdf incluso sia edizione standard che edizione deluxe in pelle verde con pressofusi in oro tutta la scritta e l'illustrazione ma senza preorder quindi ci sarà vendita separati manuali pdf i nostri pdf escono di solito tra l'otto mesi otto mesi un anno di distanza da quando escono non viene mai venduto solo il pdf dopo quello c'è il fisico questo per un motivo molto semplice noi vendiamo fisica e pdf assieme regalando il pdf e evitiamo di cannibalizzarci le vendite nei tempi più antichi il mondo era governato da draghi e demoni le forze originarie attraverso le quali il mondo e i suoi elementi primordiali si sono formati erano principi opposti che rendevano il mondo completo ordine e legge contro caos e follia draghi contro demoni ovviamente qua vedete 9,90 euro che è il costo quello che c'era del quick start sarà probabilmente 39,90 euro il prezzo del manuale base ovviamente poi vi diremo tutto quanto nel nel dettaglio come potete vedere copertina manuale base copertina deluxe midnight il retaggio dell'oscurità qualcuno di voi ha già avuto modo di giocare a midnight in passato c'è qualche vecchiaccio come me non mi interessa il manuale mi chiedevo se era assieme scusami vacco non ho capito il pdf è dentro al manuale spero di aver capito la tua domanda e di averti risposto se non ho capito scrivi pure che cerco di spiegarmi meglio scusami comunque sì sono assieme manuale e pdf pdf insieme midnight è un'ambientazione storica no no ma figurati sono io che magari avevo capito pensavo di comprare solo il pdf perdonami magari questo allora midnight è un'ambientazione storica è uscita con la 3.5 la prima volta e fondamentalmente è l'ambientazione ispirata a Diablo è il modo più semplice per descrivere midnight cosa succede se il male vince fondamentalmente c'è il signor oscuro che per tre volte ha cercato di conquistare il mondo è sempre stato buttato indietro le prime due volte la terza volta vince quindi tutte le città sono invase da orchi da eserciti di non morti voi siete degli eroi che fondamentalmente siete dei passatemi il termine dei terroristici voi andate a fare attacchi contro il male per riportare l'ordine è un manuale gigantesco sono 372 pagine dentro c'è tutta l'ambientazione tutte le regole per fare tutte le classi aggiuntive tutte le regole per gestire le vostre avventure a midnight e tutte le cose che i giocatori scopriranno a midnight finché si arriverà alla fine dove il male viene sconfitto anche questo è in uscita a Modena no 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 non bestemmiare Final Fantasy VII il capolavoro senza riteli non che midnight sia brutto ma sono le cose totalmente diverse anche qua è un manuale semplicemente meraviglioso in tutto il male la distruzione è arrivato e sta e sta e sta prendendo tutto sia esatto l'atmosfera Sparkle Bust e sta e sta corrompendo l'anima e il cuore di tutti gli eroi sono passati da parte dei cattivi e via dicendo One More Quest allora One More Quest è un GDR geniale perché è un GDR party game in cui bisogna fare dei tiri particolari cioè innanzitutto c'è un tabellone nel mezzo bisogna mettere in mezzo al tavolo che è il tabellone del è il bersaglio in cui bisogna lanciare il dado ma come si lancia il dado bisogna ad esempio prendere il dado con i mignoli e lanciarlo bisogna fare svariate pirouette e lanciarlo dentro il tabellone ci sono dado di diversa esattamente è il gioco di ruolo di Dungeon Fighter proprio è il gioco di ruolo di Dungeon Fighter quindi è divertentissimo e ha tutta una lore devastante cioè anche questo qua in uscita al play ci saranno molti eventi dedicato questo al play lo vedrete sarà estremamente estremamente divertente allora considerato che il nostro evento mi sia associazione lo facciamo in una birreria questo gioco troverà enorme spazio ai nostri tavoli sì sì batta è proprio è proprio perfetto è fatto è veramente veramente ad hoc per per questo genere di eventi ce lo consiglio veramente a tutti quanti è molto 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 divertente scusate bevo un po' che sto che sto morendo quanto mi piace questo nuovo set questo nuovo set dello studio mi piace l'ho montato io con le mie manine sono molto contento anche il muro l'ho montato io sono molto felice adesso qua dietro metteremo il neon con il logo di neat games non vedo l'ora non vedo l'ora poi andiamo avanti perché di ciccia ce n'è tanta allora io vorrei non ovviamente ho dei giochi che sono dei miei dei miei soft spot no questo è assolutamente un mio soft spot infatti ve lo faccio vedere è salvage union lo conoscete qualcuno ha già sentito parlare di salvage union magari l'ha giocato allora un secondo solo che ve lo tiro fuori corebook proof ultima modifica allora eccoci qua salvage union è un gioco dove voi interpretate dei piloti che guidano dei mecha che vanno a raccattare rottami per per appunto creare sostegno per la propria per la propria comunità e hanno il crawler questa specie di città ambulante quello che vedete adesso è un crawler dove viaggiano in giro per in questo mondo post apocalittico ogni giocatore ha la sua scheda pilota la sua scheda mecha e c'è poi una scheda comune per tutti i giocatori che è quella del crawler quella della loro città fondamentalmente voi andate a combattere le megacorporazioni che detengono l'un per cento della ricchezza mondiale con la vostra col vostro sindacato il salvage union è un gioco di ruolo di mecha senza senso da quanto è figo ha un sistema semplicissimo fondamentalmente è un sistema proprietario si usa un D20 e ci sono diverse difficoltà bisogna stare attenti col core cioè ovvero non far esplodere il proprio mecha perché il mecha si suriscalda bisogna stare attenti quando si è con più mecha bisogna andare in giro a farmare gli scratch quindi a farmare i rottami per modificare il proprio mecha quindi è proprio è estremamente particolare come gioco no, no praticamente è la lotta di classe è fatta a bordo di mecha rafforzata esattamente questa poi esteticamente ragazzi è meraviglioso perché tutto il manuale facciamo qua fisico un secondo scusate invece l'avevo qua fisico mi sa che l'ha preso Marco per la prova di stampa ha un formato che è fatto come un manuale d'uso dei meccanici Marchino e tu e salva Junior me lo porto me lo porto oggi ve lo faccio vedete che si spegne la camera si spegne la camera come si spegne la camera come si spegne grazie a te forse perché c'è attaccato la stessa c'è questo cosa che ho attaccato che trova tutto no perché è attaccato una maniera diversa eccoci ve lo faccio vedere è fatto è fatto andiamo a schermo intero che è molto più figo come un manuale vedete che è rovinato non so se notate c'è tutto l'uvì qua e poi sui bordi non è presente vedete che non c'è bling bling è fatto proprio rovinato apposta è meraviglioso dentro anche tutti gli sguardi sono scritti a mano la carta vediamo se trovo qualcosa e ci sono tutti gli appunti dentro come se qualcuno l'avesse studiato è bellissimo anche quando andate a farvi il vostro mecha ci sono le cose cancellate tipo questa parte qua non funziona o cose del genere vedete redact questo qua è la versione inglese è bellissimo poi ha delle illustrazioni e poi ci sono tutti i mecha con le vostre schede del mecha perché ci sono tantissimi tipologie di mecha con la scheda del mecha ci sono tantissime tipologie di mecha cioè dal mecha combattente al mecha costruttore al mecha riparatore e voi dovete scegliere il vostro mecha che pilotate anche questo sarà acquistabile e giocabile a Modena in più stiamo anche lavorando sulle varie aventure di di salvageunior usciranno parecchie parecchie avventure e sono proprio proprio belle divertenti è un gran bel gioco anche sto qua noi ci giocheremo un botto anche sto qua lo porteremo comunque al midi play non vi preoccupate così vedrete vedrete tutto quanto e ve lo riporto a far vedere vi faccio vedere qualche mecha perché è la cosa più figa questa qua è la scheda del pilota ok con le varie classi che ci sono con i talenti con i vari talenti che ci possono essere sul ramo il ramo dei talenti e si ci pensavo batta finita la campagna di Ose pensavo di portare Salva Junior voglio farvi vedere anche i mecha varie classi che ci sono e via dicendo ecco qua vedete voi avete la scheda del vostro mecha ok e poi i mecha il mule il masona lo scrapper lo spectrum il treasure il forge il gopher lo sar il jackhammer il mio preferito il kraken il magpie il mirror ball e via dicendo ce ne sono un botto se qua sono tutti i vari mecha che voi potete avere ognuno di voi ha un mecha qui c'è ah per te che ho visto delle domande che non vi ho che non ho a cui non ho risposto scusatemi allora guarda dove spari domanda per i giochi in cui avete tante espansioni tipo Warhammer Fantasy Roleplay farete dei bundle oppure ci sono solo le versioni deluxe dei manuali a coppia ma ci sono spesso ci sono i bundle ad esempio c'è anche per per i cinquenelli ci sono bundle faremo adesso appena finiamo tutta la campagna imperiale il mega bundle anche per Warhammer c'è parecchia facciamo spesso bundle sinceramente e poi ovviamente c'è tutto c'è solo una marea di mecha c'è un tema vado avanti veloce perché non mi so anche far vedere tutti quanti c'è anche tutta la parte dei vedete qua obsoleto si veda posamine anti mecha la diffusione del contenuto rimosso è punibile con un massimo di 10 anni di reclusione in una struttura di detenzione dell'iso group PLRC e con una multa fino a 10.000 a 100.000 debit credit questa titola è stata rimosso in base all'articolo 4,2362 della convenzione del concilio corporativo sugli armamenti disumani mentre di dragome e del bestiario avete entrambi al play più libro dell'avventura omaggio chiedo perché potete aver capito male no al play c'è solo il manuale base poi uscirà il bestiario poi uscirà il libro delle avventure e chi ha tutti e tre riceverà in omaggio la slipcase spero di essere stato chiaro adesso guarda dove spari magari non sono stato chiaro prima non sono stato prima molto chiaro quindi vi chiedo scusa questo è Salva Junior ovviamente anche col suo bestiario sono 332 pagine è bello il crawler il crawler è appunto la vostra città dove vivete voi e anche qua è come potenziate come salite di livello e potenziate i vari mecha andando in giro a costruire le cose si si è enorme il master si chiama il mediatore vediamo un pochettino il bestiario ecco il bestiario perché ovviamente i mostri si combattono con il mecha non è un A5 è un formato particolare vi faccio vedere la differenza questo qua davanti è un A5 questo qua dietro è Salva Junior quindi è veramente parecchio diverso parecchio più grande poi è bello ha una carta molto molto bella serve solo il D20 per giocare non serve nient'altro si chiama Salva Junior andate sette dei piloti di mecha che vanno in giro a prendere rifiuti in un mondo post apocalittico per farvi dei mecha sempre più grossi e incazzati e distruggere le megacord ho fatto una descrizione perfetta in pochissime parole verme delle sabbie ovviamente con i vari tipologie di mostri schifosi che ci sono behemoth ovviamente ci sono anche esseri umani questa qua è l'avventura la cosa bella è che i piani sono fatti sono fatti come le vecchie mappe agnotante e cose del genere è veramente veramente molto bello Nico secondo te creerete un forum tipo i vecchi forum free allora ci stiamo pensando Brighter sinceramente stiamo veramente pensando è l'erede di Battletech Chris cioè hai fatto un esempio perfetto è proprio è una delle ispirazioni più grandi Battletech quindi proprio capite a fagiolo il tuo il tuo esempio ma andiamo avanti comunque cioè vi leggo la descrizione trovate comunque l'articolo sul nostro sito è un gioco di ruolo sui mecha ambientato in un futuro post apocalittico in cui giocherete nei panni di piloti robistatori che setacciano le desolazioni a bordo dei loro max feraglianti alla ricerca di preziosi rottami esplorando le desolazioni alla ricerca di rottami incontrerete razziatori mutanti biotitani ricombinanti alieni e forze corporative tutti coinvolti in una costante lotta per la sopravvivenza in questo ambiente ostile riuscirete a recuperare abbastanza rottami da permettere alla vostra comunità di sopravvivere o cadrete vittima dei mille pericoli inaguato vedete il formato è A5 domanda per il GDR di Assassin's Creed ho ricevuto il quick start in francese da parte di Ubisoft e traducendolo lo vedo parecchio interessante guarda noi in realtà è pronto stiamo solo aspettando che ci diano l'ok per pubblicarlo detto proprio così ci sono inoltre altri nuovi supplementi Cyberpunk Red Danger Gal Dossier ovviamente supplemento di Cyberpunk per su le neocorp su che cosa fare sulle fazioni di Night City su ci sono più di 100 PNG da utilizzare direttamente nelle vostre campagne le guide per creare le schede dei PNG e via dicendo ovviamente è Cyberpunk quindi ma anche il GDR di Assassin's Creed avrà le micotransazioni? no allora ti dico la verità papaproci magari magari ma purtroppo noi abbiamo la passione non abbiamo la passione dei soldi abbiamo la passione per il GDR quindi no ovviamente non ci sono micotransazioni è un gioco tutto quanto si estra bellissimo e niente rose che stiamo facendo il production update abbiamo spiegato con Minding News quindi qualcosa di più istituzionale dove ogni settimana vediamo le novità sulle nostre linee editoriali le novità degli eventi che abbiamo fatto le novità dei nostri partner e via dicendo oh beh io penso che ti faccia fare tantissimi soldi le micotransazioni però ripeto noi non abbiamo la la come si dice la scimmia dei soldi abbiamo la scimmia per il GDR quindi facciamo carte e via non è molto bello adesso scherzi a parte è veramente molto molto bello come come gioco di ruolo Assassin's Creed e io non sono esperto di Assassin's Creed lo dico proprio con trasparenza ovviamente l'abbiamo fatto giocare a molte persone che sono appassionate di Assassin's Creed per dirgli cosa ne pensavano ne sono rimasti entusiasti io l'ho giocato da non appassionato di Assassin's Creed mi sono sfondato mi è piaciuto tantissimo ha un sistema particolare con dei dati particolari puoi giocare qualsiasi Assassin's Creed quindi è veramente è veramente estremamente bello e particolare come gioco quindi se ti piace Assassin's Creed vai a colpo sicuro ok provalo ci sarà un sacco di modi un sacco di occasioni per provare il gioco e quindi vai a colpo sicuro Fallout l'inverno dell'atomo allora Fallout è un gioco di ruolo che noi stiamo vendendo come il pane come il pane da parentesi ci tengo a farvi vedere anche una figata che è lo Star 3 set italiano meraviglioso semplicemente meraviglioso questo è quello italiano è arrivata la prova di stampa è in nave l'inverno dell'atomo invece è un'avventurazza gigantesca molto 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 figo anche questo qua sarà disponibile al play e ovviamente servono o il manuale base o lo Star 3 set per pregiocarlo è un'avventura da 240 pagine quindi bella 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 cicciosa e molto bella come avventura sia che siate fan di Fallout o che non lo conosciate il 2D20 System è un sistema che io adoro ed è veramente bello ben arrivati i 4 amici in live si si lo sappiamo lo sappiamo che è stramega in scimmia di Fallout non ti preoccupare che vedrai che ci sono un po' di cose aspetta che mi avete scritto un po' di cose allora cred gaming ciao Nico esco da un silenzioso per chiedere anche io delle info sulle eventuali versioni italiane di Dark Ristan ho l'abriti in italiano e devi prendere Dark Crystal inglese e mi urta lo so no allora noi vorremmo tantissimo fare Dark Crystal io ce l'ho in inglese oh porca miseria sta telecamera ecco devo spegnere e riaccendela non so perché sta saltando ci sarà qualche contatto lo adoro il semplice fatto è che però purtroppo aveva dei costi di produzione esorbitanti ma veramente esorbitanti cioè grande come Labyrinth e ci costava quasi no il doppio no però una volta e mezzo Cyberpunk che ha 480 pagine ed è in formato letter quindi non stiamo vedendo se riusciamo a trovare un qualcosa di economico e poterlo fare se no no ah poi guarda dove spari ha fatto riassunto ah si mi è caduto il microfono scusatevi continuiamo quindi abbiamo detto in vero dell'altro ah altro soft spot di Nicola voi sapete che noi facciamo tantissimi giochi però non ho mai non ho mai nascosto che questo è in assoluto uno dei miei giochi preferiti ma proprio ci gioco tantissimo oggi ci parte ci parte la campagna di la nuova campagna di Ose perché giochiamo a il castello degli Amber un gioco un modulo meraviglioso l'ho giocato la prima volta 27 anni fa e non mi ricordo un cacchio quindi siamo solo che felici di far uscire Noc 2 Noc 2 degli amici di Mary Marshman è un campionario di charpame ovvero che ci sono un sacco di info di info dentro e voglio assolutamente farvelo vedere perché come sapete la meraviglia di di Noc è come viene impaginato quindi aspettate prodotti collegati Noc 2 e soprattutto di Noc 2 si gioca tutto questa è forse la cosa più meravigliosa di Noc chiudi guardate la meraviglia di questo manuale cioè questo qua va bene per qualsiasi GDR cioè lo consiglio a tutti veramente a tutti ha dentro qualsiasi cosa spunti nuove classi dungeon un sacco di articoli tabelle randomiche per qualsiasi cosa andiamo andiamo a caso 8 incantesimi per stregoni goblin anatomia della mappa di un dungeon sto andando a caso distintamente non morti mostri modificati ah di 60 oggetti utili scusate voglio tirare a caso un D60 sì ho un D60 37 un forchettone che si scosta dal fuoco e si raffredda immediatamente quando il cibo è cotto sempre al dente che meraviglia l'esagono sfumato di grigio questo qua sono le varie diverse prove per gli allenamenti cioè è tutto così a Michelfo Sir Rambaud Merlidian Barbascia Bunzo Bibbs elogio del vanilla fantasy insomma noc ragazzi piccolo piccolo gioiello che consiglio veramente a tutti se non avete preso il primo numero recuperatevelo perché è semplicemente meraviglioso allora sì lo so folklore non allora Joe non come abbiamo detto sempre noi abbiamo tanti giochi e tanti annunci da fare ne facciamo un po' alla volta quindi credi in noi credi in noi Joe ok mettiamola così troica i miei cari paleo amichetti nazioni del permiano allora la cosa migliore per presentare paleo amichetti è leggervelo ancora prima dei dinosauri i favolosi dimetrodonti hanno dettato la moda delle paludi gli squalix senacantus cornuti hanno abilmente negoziato i sacri raccordi i nautiloidi e le ammoniti hanno sondato le più profonde profondità filosofiche i trinassodonti e le brumi streghe hanno sviluppato insieme sofisticate tecniche maledetta trecamera sto facendo disastri insieme sofisticate tecniche di acquacoltura questi popoli del paleozoico hanno appreso i valori della pace del rispetto della cooperazione e della comunicazione e poi ovviamente sono arrivati gli umani e questi grossi bulli si sono presi tutto ciò che volevano i miei cari paleo amichetti in azione del primiano è un'ambientazione o sfera per troica una terra fantasy incredibilmente antica e assolutamente adorabile è bellissimo no è per forte mi sa che c'è un contatto con qualcosa dopo controllo è inutile fermarla live ogni tanto ma le vada spengo e riaccendo non è nulla di che inutile dire quanto ho voluto questo manuale io di troica tra ventini troica sono anche oltre ad avere responsabile di troia di tutto quanto sono responsabile di linea perché mi piace particolarmente ciao lupacchiotto grazie per essere stato per essere stato con noi infine ma le mitiche scato i fallout e star set twilight 2000 blade runner e gli agenti di dune stiamo lottando con le unghie e con i denti per averceli in tempo e subito dopo nodera non portetevi le nuove uscite per unico anello il signore degli anelli la legge dei cinque anelli e perché no anche qualche nuovo a guarammerata le inoltre a breve avrete anche uno degli star set più belli che ho avuto per le mani ovvero quello di soulbound sta arrivando a fine mese la nave quindi ce la mandano tutti quanti è un capolavoro questo star set se non conoscete il soulbound prendetevi questo star set perché è la fine del mondo ci giocate un botto è veramente veramente molto bello insieme a una sbalangata di prodotti per warhammer quindi ce n'è veramente per tutti tutti i gusti tutti quanti i gusti non potrei essere più più soddisfatto prima qualcuno mi chiedeva se al play ci sarà fabula ultima da acquistare assolutamente sì è in ristampa adesso fabula sta avendo un successo clamoroso ne siamo orgogliosi e fieri e ovviamente ci sarà la nuova ristampa al play per acquistare ovviamente anche per giocare l'atlante natural fantasy esce a lucca c'è arrivata la copertina ed è semplicemente meraviglioso adesso ovviamente abbiamo parlato che ne sono minchia già le 6.20 abbiamo parlato un sacco qualsiasi domanda adesso una chiacchiera tra di noi un po' defaticante qualsiasi domanda avete inerente appunto ai nostri giochi fatemela e sarò solo che felice di rispondervi che siamo in un momento un pochettino più nel chill adesso o se avete domande sui nostri prodotti è chiaramente qualcosa che non vi ho detto e volete sapere o volete conoscere qualche nostro gioco Need News serve a questo o ai nostri partner Need News serve esattamente a questa cosa qua noi vi presentiamo tutte le le evoluzioni che ci sono nelle nostre linee le nuove licenze le nuove attività che fanno anche i nostri partner e inoltre facciamo adesso il e dopo questa chiacchiera qua possiamo parlare dei nostri giochi quindi qualsiasi cosa volete sapere inerente a Dungeon24 newsletter il il play scusatemi il Need Play il Modena Play qualsiasi cosa chiedetemela o consigli o domande sui nostri giochi allora ricordavo bene è divertente come io ho tutto di fabula ma non l'ho mai giocato al Bergamo Comico e fare il master non fa per me ma papà per cui puoi giocare un sacco il gioco di un organizzato c'è Fabula Chronicles puoi giocare o ci sono tantissime ad esempio sessioni in live che scusami in live perdonami su Discord che parto sul nostro canale anzi vediamo cosa c'è su Discord perché ci sono due cose importanti che voi dovete vedere sempre sul nostro Discord adesso ve le faccio vedere che sono vi condivido lo schermo queste due cose qua la prima bacheca sessioni adesso qua o ricerca party qua potete pubblicare tutto il gruppo che state cercando ad esempio questo qua è di tanto tempo fa quindi andiamo sulle cose più recenti cinema e memoria fabula ultima pubblicato un giorno fa sta cercando persone stile memoria tipo campagna medio corta 8-12 sessioni fabula ultima trama della campagna date di orario venerdì sera dalle 21.30 all'una di notte partecipanti 2 su 4 vuoi andarci a giocare papaproci qua sta cercando due giocatori voglia weirden voglia quando uscirà il 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 bestiario è in lavorazione ancora si si ho visto ho visto che che era saltata quindi la prendo e la riaccendo mi sa che è proprio un cavo ragazzi perché vedo che è abbastanza sbilenco quindi dopo lo sistemerò e luce fu quindi come vedete ce ne sono tante cerco giocatori per fabula cerco player per one shot di fabula cerco campagna leggenda cerco giocatore cerca one shot avventure di ose su mrpg cioè sapete cosa faccio io mi scrivo questo eccomi io vorrei partecipare voglio partecipare su mrpg che è fighissimo si sa mai che parta quindi è per masterare le multi navigare è meglio recuperare il manuale per recuperare qualche meccanica esclusiva no no non ti preoccupare non non ti preoccupare assolutamente basta conoscere 7c quindi questo è un canale da vedere ok ricerca party e ricerca one shot è importantissimo cioè ce ne sono un buato cioè anche e cercano anche cercasi campagna al vivo kidzone brutto e mary pot cerchi game master per 7c narratore vampiri cerco campagna del genere cinquenelli cerco giocatore per share campagne di ose cioè c'è un sacco di roba poi qua sono tutte le campagne attive scusatevi qua tutti i canali attivi qua tutte le campagne attive che le persone vogliono giocare sul nostro discord quindi volete fare la vostra campagna ci avvisate e via poi richiesta chronicles qua sono tutte le sessioni di di chronicles che ci sono con le baccheche chronicles le persone il prossimo il grande abisso stagione 1 capitolo 10 quindi gioco di ruolo organizzato di fabula chronicles che partirà tra 15 giorni venerdì 5 aprile neanche qua poi altra cosa importante c'è la shared campaign di warhammer pa 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 dov'è eccola qua annunci shared campaign per giocare bacaca shared campaign le sessioni quando sono come di 24 aprile queste qua sono tutte le sessioni di warhammer quindi andate e iscrivetevi tutti c'è c'è un sacco di 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 occasioni per per giocare di ruolo quindi avete potete giocare quanto quanto volete ed è una cosa molto 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 bella io personalmente gioco 99% online quindi per me è estremamente estremamente comodo è figo giocare così allora aspetta pa 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 però ci dici Nicola purtroppo voglio gli orari veramente del cazzo quindi non posso mai esserci per campagna e non voglio fermare il gioco ad altri per colpa mia perdere one shot spesso coincido con i miei giorni lavorativi in cui non posso essere ci sono proprio una cosa difficile ah perché magari orari serali se lavori per turni magari hai turni serali che hai difficoltà a giocare o magari anche weekend cioè bella lì una vita avevo scoperto durante una puntata su chero mattina quindi secoli fa io ho sempre in attesa di fare la mia prima sessione ma non ho idea di come fare vieni allora perfetto sei nel momento giusto guarda cosa devi fare per giocare basta che vai qua sul nostro sito sul nostro sito sul sito di need games e in alto la prima cosa che trovi è questa inizia qui cos'è il gioco di ruolo essere un giocatore di ruolo ti spiega come iniziare a giocare di ruolo come iniziare a giocare e se non ho ancora un gruppo come trovare i gruppi come giocare e via dicendo quindi qua puoi trovare tutto quanto allora totale studio comincia con irti a disco di need games si trova sempre una prima sessione lo faccio lo faccio in real non ho capito scusami schifo allora online è assai comodo ma tutti entrono un tavolo il suono dei dadi birrette non ce n'è un abbraccio ci vediamo al play oh meme si certo guarda è molto bello molto bello stare entrono un tavolo meme però io ad esempio ho un gruppo che ho conosciuto ormai due anni fa con cui gioco online con un giocatore che è di Bari un giocatore che è in zona diciamo Parma un altro gioco più Parma-Piacenza un giocatore che è di Lodi un altro giocatore altri due giocatori sono di Bergamo e nonostante questo ci troviamo talmente bene e siamo diventati talmente tanto amici anche in real che purtroppo il livello purtroppo per fortuna il livello la qualità per metto è gruppo privato quindi qualcosa di mio amici miei non roba pubblica eventi il livello del ruolo del gioco di ruolo è talmente alto in questo gruppo che abbatte il fatto di giocare online almeno così ho avuto modo di conoscere Batto ho avuto modo di conoscere Albe ho avuto modo di conoscere Sbini Baldo Alice cioè ci troviamo proprio strabene ovvio che se loro fossero tutti quanti a Milano penso che sarebbe un problema perché giocheremo tutte le sere però è veramente veramente bello cioè Giovanni c'è a dire la verità perché c'è nella sessione del Game Master sempre te lo faccio vedere sempre qua in inizio da qua essere il Game Master ti spiega quasi sono le da prezzi c'è la mia faccia da cacchio mettiamola così ok ti spiega tutte queste cose è difficile fare il Game Master strumenti per il Game Master consigli e poi save space e ti spiega c'è la sezione sui prodotti dedicati al Game Master madonna che barbona che avevo qua rifaccio le rifaccio se senti che espressione aspettate vediamo se ci riesco metto anche l'elastico per i capelli non lo trovo più l'ho perso per sempre no ma non ho più non voglio più avere la barba così lunga mi fa sembro veramente dopo un tagliaboschi devastante ma figurati Giovanni è un piacere serve esattamente a questo serve Need News per parlare appunto di tutto quello che vi può offrire Need Games spero che ti sia strutturato utile avete scritto un sacco scusatemi allora a proposito come aiutare a iniziare a giocare guarda dove spari dove si trova la vostra sede fate anche vendita diretta o permettete ritiro oppure materialmente i manuali partono da una sede differente rispetto a dove vi trovate a lavorare no no facciamo anche vendita allora noi non siamo un negozio però le persone di Milano lo diciamo se volete venire a comprare le cose potete venire qua potete pagare anche col Bancomat e tutto quanto perché abbiamo il post potete pagare con ordinare online e venire a ritirare in sede da noi assolutamente senza problema ciao Brighter grazie mille per essere stati qua con noi indie anche io vorrei tanto fare giocate real ma il problema sta nel fatto che sono tutti lontani quindi dobbiamo usare Roll20 ma almeno si gioca assieme indie perfettamente d'accordo allora potete raggiungere nuove vette che gioco forza si scontrano con dei limiti fisici geografici esatto esatto bene allora io trovo che la tecnologia moderna abbia risolto un sacro di problemi logistici che una volta rendevano impossibili giocare è solo perfettamente già accorto Calit totalmente d'accordo ciao indie è stato un piacere grazie mille una sessione live di 10 ore super in bocca al lupo divertiti come un pazzo spero potrò giocare più ora che mi licenzio questo lavoro mi è stancato al momento non la subiamo a tempo a tempo fisso prendiamoci siamo un freelance per traduzioni e grafica ma a tempo fisso dai 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 che ci sarà di nuovo non può piovere per sempre come dicevano nel corvo sempre sicuro del suo 19 bonus fortunatamente questo è un rolander quindi ho paura che il suo personaggio sia ora nel panico no però è indubbiamente molto bello la community anche con membri della community io l'ho conosciuto così il mio gruppo l'ho conosciuto come membri della community è stato molto molto figo ciao nicola sono arrivato tardi vi ho già detto gli sei 0 date di uscita di one more quest oh scusami condono avevo letto sì al modena play al modena play uscirà a one more quest ci saranno un sacco di sessioni ci sarà anche il mega tabellone dove lanciare i dadi quindi al modena play potrei giocarlo xela buonasera a tutti ho iniziato a master la mia prima campagna course of strad e sto pensando di sviluppare una mia ambientazione mi sapessi dare qualche consiglio ma assolutamente xela anzitutto course of strad ottimo inizio è meraviglioso è veramente veramente bello il consiglio che ti do per un'ambientazione in questo caso il manuale del dungeon master di dnd è fatto veramente bene è micro macro ovvero parti sempre dal micro parti da un piccolo paese che diventa poi vicino a una grande città la città magari è la capitale la capitale c'è l'impero l'impero c'è il continente il continente c'è il mare il mare c'è l'altro continente quindi parti dal micro e vai al macro ricordati a quello che insegna Sly Foolish una campagna non è altro che una sessione dopo l'altra quindi focussati va affanculo focussati sulla sessione e poi passa alla sessione successiva scusatemi un secondo che voglio provare a vedere se c'è veramente il cavo che posso fixare scusatemi perché sto impazzendo questa cosa qua che è assolutamente perché non è che sia calda o altre cose cioè vi vediamo se mettendo questo qua per terra evita di saltare ogni due secondi tutto ecco l'ho fatto così lo l'abbiamo ecco fatto questo cavo qua non è più tirato come una bestia vediamo come va hola la giro un po' più di qua oprala eccoci alla sindrome di Tourette no nel senso sono spettamente sboccato di mio allora sono arrivato lungo per far dimmi Albi ciao ciao ragazzi cosa stai facendo di bello quindi ho finito adesso con il production update stavamo facendo due chiacchiere sui nostri prodotti sulle ristampe su altre cose bello va bene sei preoccupato perché sono venuto qua si di bestia cosa c'è sai di chiacchiereali esatto mi porti una schifezza a mangiare qualsiasi vabbè ma che top ragazzi c'è piegato del mese ovviamente c'è numero uno che top la fame è devastante si fa proprio di chiacchiereali avevo un chiacchiereali in tasca mmm allora Nario sono arrivato lungo per favolo ult sono notizie eventuali di ristampe si è attualmente in ristampa e sarà disponibile prima del play e ovviamente al play ci sarà anche con e-mail e tutto quanto Nico ma the monster don't know what they're doing allora with them ho parlato molto con l'autore che è una persona squisita il punto è che per localizzare in italiano monsters know what they're doing bisogna scrivere una lettera fisica alla casa di editrice madre a New York non l'abbiamo scritta vediamo un po' lo so che sembra assurdo ma in realtà è così una lettera e non una mail una lettera fisica a mano scritta a mano deve essere nel vaffanculo era perché c'era c'era saccata la camera ragazzi scusatemi allora ciao Nico secondo te quando è stato difficile che l'ambientazione navigabia hai qualche consiglio su come creare un'ambientazione su 7C ma a parte che personalmente l'ambientazione di 7C mi piace un botto è stravaria è un'antica cugina del mondo del 1656 quindi è bellissima ma ispirati a qualsiasi cosa di marinaresco o politico del 1600 e vai sul sicuro è stato non è stato complesso scrivere navigabia Luca va le idee ben chiare è stato molto divertente questo è il termine corretto vabbè Rosic non ti rispondo neanche allora Xela ho cercato info in giro per il web ma ho solo letto cose discordanti i manuali base aggiornati quando escono uscirà solo per il handbook o anche gli altri successivamente Xela sai che non ho capito di cosa stai parlando no è maturo mi spiace darti questo dolore ma ti dico tranquillamente che non faremo Wilderfist siamo molto amici di horrible guild ma non lo facciamo per un motivo molto semplice che era molto fa delle cose molto simili all'atlante natural fantasy di fabula il gourmet le ricette non aveva senso per noi fare un manuale del genere non l'avremmo supportato abbastanza quindi siamo stati sinceri con i nostri amici le abbiamo detto che secondo noi nonostante siamo il partner ideale per One More Quest non lo saremmo stato per Wilderfist quindi purtroppo non lo faremo noi no non è il cavo c'è la voce in sottofondo di Nicola all'oscurità calo le luce eccoci no allora che sarà il ma non è calda poi c'è nel senso siamo abituati abbiamo fatto anche live da sette ore quindi non capisco e che sarà scusa non sto capendo il manuale di D&D è uscito nel 2014 quindi ci sono tutti specialmente per Curso Strad che è sulla quinta se vuoi giocare il nuovo D&D uscirà a settembre il manuale base poi a dicembre il bestiario e poi a gennaio o febbraio il manuale dei mostri scusa il manuale del GM quindi io se fossi in te comprerai tutti i manuali base come stai giocando senza i manuali di D&D forse ho capito male io eh però nel senso allora domanda seria i miei amici sono tutti grandi fan della quinta E non sento necessità di provare altro quali sono i migliori motivi per provare Ose sinceramente la semplicità folle nel nel creare avventure personaggi il divertimento assoluto di usare il pensiero laterale quindi non guardare la scheda ma usare il cervello il divertimento di quando tiri un dado se sbagli un tiro salvezza sono cavoli quindi cercare di tirare i dadi il meno possibile e poi giocare l'effetto a Mark Ford di giocare l'inizio di D&D per me Ose è 300 volte più divertente la quinta edizione cioè stasera noi iniziamo porca miseria ah cavoletti cavoletti Nicola cavoletti cavoletti Marco continua a esplodere la camera non regge ogni 30 secondi si spegne la telecamera si spegne la camera no non si spegne diventa nero devo spegnere e riaccenderla stiamo quasi a fine live però vorrei solo informarti di questo me l'hai già detto quindi non serve un'altra volta non so ma sai che sei un giro guida no non è quello sono proprio punchbowl no non sei il mio punchbowl sei il mio socio e sei l'unica persona che mi sopporta al mondo il che per me vale più esattamente quello il punto vedo che hai esattamente colpo l'hai provato da mettere in piedi così appoggiato bene sì ho provato perché tocca per terra l'ho appoggiato vai vai chi se ne frega allora affinché io vado no non rompere le palle batta adesso una cosa quindi questo qua è la mia motivazione personalmente stasera inizia la campagna noi per noi di Ose sono emozionatissimo ma perché ho sociuffo di capelli mi sta facendo impazzire sono veramente super super emozionato non vedo non vedo veramente l'ora che inizi ho una scimmia devastante proprio l'emozione della prima campagna e oggi mentre ero sulle scale che stavo venendo in ufficio ho pensato oggi inizio la nuova campagna GDR sono emozionato come ogni campagna cioè beh è pazzesca come cosa ogni campagna però la stessa sensazione di emozione e gaudio faccio una domanda da profano ad alto sacerdote dei giochi di ruolo che sta anche dietro tutto ciò che c'è tra licenze e eventuali diritti un gioco come Star Wars Saga Edition Saga Edition non è il D20 System il Saga Edition è il D6 System comunque in senso potrebbe essere stampato secondo te oppure appartiene ancora come diritto a qualcuno che non lo commercializza più no non è il Saga Edition appartiene ai diritti che non ci sono più quindi non si può più rifare Allora 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 intendevo quella scusa sono nuova le GDR quindi non so esprimermi al meglio al momento usi manuali online su D&B No va benissimo la Xela usa quelli non usare nient'altro stai tranquilla usa quelli vai vai sul sicuro quelli nuovi li prenderei quando escono vai tranquillissima vai adesso a cannone con quelli quelli che hai vai alla grande Allora una domanda off topic un po' di giorni fa mi sono fatto un flash su due concept di sottoclassi per D&B un monaco duellante incentrato sui danni da fuoco ispirata alla canzone True Fire and Flames ed un barbaro che quando va in ira attiva una forza di gravità che attiene i nemici verso i due li tiene vicino cosa ne pensi come concept ma a dire la verità il barbaro non l'ha inventato c'è il brawler che semplicemente fa tutto di grappling quindi non c'è la forza di gravità che li va vicino ma il suo oggi l'ho giocato per 20 livelli e Bottle Point cioè lui il suo colpo ha l'armor Red Spike quindi scusami ha l'armatura con gli spuntoni ed è tutto un grappling e schiacciarli contro gli spuntoni molto molto figo per ciò che riguarda il monaco duellante sui danni da fuoco ma basta fare una multiclasse monaco monaco stregone ce l'hai già e non è che ti serva chissà cosa però sono dei bei concept allora boff è giusto un parere ma data la retrocompatibilità di One D&D con la quinta E può valere la pena cambiare edizione su cui giocare campagna in corso o ci conviene più starci sulla quinta perché con il DM non sappiamo se converrà o meno prendere i manuali ragazzi cioè è il test non cambierà nulla cioè non è allora che sia chiaro la nuova edizione di D&D non è una nuova edizione di D&D è una revised non è neanche una 5.5 è una revised ci sono cambiate alcune cose cambiate alcune cose ci sono delle sottocrassi nuove ma non la ti vieta di giocare anche i nuovi moduli con la quinta E quindi vai tranquillissimo non lo so cosa verrà fuori sono un po' spaventato allora mi ha risposto mi ha avviso la stupenda di aggiungere la scheda che sia una verità delle classi con le attitudini parli del Saga Edition scusami ho preso il vostro manuale di Tregor Tregor Gemini e l'impaginazione mi fa impazzire si è scritto quanta male c'è Nicola grazie ancora spero che sia una volta buona di provare a ruolare il più duro possibile sempre spero veramente schipito spero con tutto me stesso non ho capito scusami scusami boffe parla a te ti lascia perplesso ma meglio così che con la quinta E avendo un gruppo di tanti neofiti ci troviamo bene perché tu sei convinto che la quinta E sia un gioco facile per i neofiti in realtà è uno dei giochi più difficili che ci sia spero che tutti quanti siamo d'accordo su questo c'è D&D quinta edizione non è un gioco facile io spero che sia chiaro a tutti perché D&D è semplicemente il gioco più giocato quindi è facile trovare persone che lo conoscono ma non è il gioco facile burda è il D&D eh ragazzi c'è farsi il personaggio buildarlo farsi la scheda PG aumentare di livelli 18.000 talenti 18.000 cose 20.000 caratteristiche abilità non è un gioco facile cioè proprio quindi questo è importante che vi piaccia che sia bello sono cose diverse che ma non neofiti allora giochiamo a D&D quinta E no neofiti giochi a Terror Target Gemini giochi a Ose giochi a a a a labirint giochi a Seven Sea è già complesso cioè giochi a cose più semplici di tutti ovvio la 3.5 è una merda allucinante cioè io chi mi conosce sa che ho fatto il barbecue con tutti i libri della della 3.5 cioè li ho bruciati pubblicamente perché la odiavo quindi non è quindi ah vabbè The Witcher or Cyberpunk assolutamente no no sbrebi mi dispiace ma no Fabula non è assolutamente adatto ai neofiti proprio assolutamente proprio zero Fabula è perfetto per un neofita che ama che ama i jrpg e vuole vuole giocare a un gioco che è jrpg come dice Papa Proci nobi nobi è perfetto per i neofiti ecco GURPS non è per i neofiti ad esempio provendo c'è oh porca miseriaccia la telecamera tantissima la madonna del cielo che vola la 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 ma Maroborga ha due regole in croce tiri di sei basta hai sbagliato muori semplicissimo nel senso è veramente molto semplice il re è morto è per tutti sì devi solo leggerti un po' di roba però Marco c'è il tuo librettino però è molto molto bello però è anche vero che ho un gruppo che non ama sperimentare quindi siamo molto fissi su D&D anche se avendo preso i manovani navigavi a Lucca prima o poi dovevamo provare anche se avessi che sto già scrivendo una campagna è un problema di tante persone perché tu sai in realtà qual è il vero problema perché le persone vogliono sperimentare faccio la domanda a tutti perché le persone giocano a D&D e non vogliono capire gioco bravo vede banalmente è l'unico vero motivo esattamente ragazzi esattamente questo motivo poi vabbè allora nel senso io non mi posso prendere come esempio perché ovviamente il GDR è il mio lavoro è la mia passione più grande cioè io quando non lavoro in GDR leggo GDR cioè la mia serata tipo quando non mi sfondo a qualche JRPG è sedermi davanti al computer metto una live di qualche giocata o metto qualche podcast o della musica mi prendo un manuale che magari ho acquistato in celofanato o che non conosco bene me lo apro prendo il mio Remarkable e inizio a studiarmelo e lo adoro e poi di solito scrivo in chat a batte agli altri fa oh ragazzi ho studiato questo gioco giochiamolo poi esco magari un sacco di figate nel gioco un botto quindi è è questo cioè mi fa mi fa impazzire ieri ho giocato a Trial of Cthulhu sopravvissuto perché il mio personaggio si è fumato cannone tutto il tempo scusami sui tracce di Cthulhu il tuo personaggio si fumava Bob che cazzo sui tracce di Cthulhu hai giocato oggi faccio facciamo la 38esima sessione della nostra campagna e la finiamo non riesco a capire abbiamo giocato giochi diversi mi sa Ergot Caro poi riuscire a comfort zone e dover impararsi qualcosa a cui non piace eppure ci sono talmente tante occasioni di provare senza impegno esatto allora Jirugameshu ciao prima o poi vorrei masterare la leggenda dei 5 anelli e alcuni miei giocatori sono d'accordo e qualche consiglio gli zaccari il piccolo maio sui must è illuminante e i miei giocatori non sono un popolo di filosofi per cittare Barbero considerato che il torneo di Topazio mi è sembrato un'ottima introduzione ti sei mai trovato in una posizione dove spiegare un sistema complesso senza sperimentare i giocatori accetto anche Jirugameshu non portare al tavolo l'anno scorso abbiamo fatto noi ogni anno facciamo una campagna di un anno quindi prima delle sue tracing tool abbiamo giocato appunto la leggenda dei 5 anelli e ho unito tutte le avventure pubblicate la leggenda dei 5 anelli penso che sia il nostro gioco di ruolo più difficile in assoluto perché c'è una regola per qualsiasi cosa ma è per me meraviglioso lo sapete in passato ne ho parlato a a manetta in realtà è più semplice di quello che si pensi la cosa importante è che tu prima tiri i dadi e poi devi ruolare il risultato dei dadi portami in cielo mario tutta la mia vita sei tu la odio questa telecamera troveremo una soluzione vi chiedo scusa portala senza problemi gioca sia l'avventura del tonalito pazio gioca anche la continuazione che trovi scaricabile gratuitamente sul nostro sito quindi te la giochi alla grandissima sono all'incirca 3-4 sessioni e 3-4 sessioni il palazzo del magistrato di Sberaldi vai vai alla grande proprio io adoro provare sistemi diversi anch'io proprio ma il problema è il tempo e da un paio di anni siamo blindati sugli anni neanche morto allora noi la quinta l'abbiamo odiata siamo fan della 3.5 sto dicendo dei più grandi errori del passato GDRistico che ha rovinato generazioni di giocatori e io ho bruciato tutta la mia collezione da 3.5 facendo una grigliata con i manuali di D&D 3.5 proprio mi dispiace ma no non ti consiglio né Ose né Dragonbane assolutamente no rimani su Pathfinder 2 ancora Pathfinder 2 che è ancora più complesso di Pathfinder 1 però ovviamente il tavolo è tuo devi giocare quello che piace a te quindi non fregatele cioè non non è non è il mio cioè premetto ci ho giocato roba e folli ma proprio non è cioè se qualcuno mi dicesse cosa vuoi giocare 3.5 o non giocare di ruolo gioco un libro game non mi divertirei con la 3.5 non è ruolo non è ruolo commercialista GDR no no ma non scusami sto vedendo che guarda dove spara ma è considerata Weirden è un misto tra Ose e la quinta edizione e chi ama la quinta edizione odia la 3.5 chi ama la 3.5 odia la quinta edizione vuol dire che gli hanno piacere ha un gioco di ruolo complesso non fa assolutamente nessuna piega è che sia chiaro a me non piace e non e ognuno è libero di giocare quello che vuole ed è sacro santo ma piuttosto ti consiglio di provare un giochi molto complessi come un Roll Master o un GURPS cioè giochi proprio belli belli complessi da un punto di vista di sfaccettatura di creazione del personaggio e l'unico posso consigliarti questo come si fa a capire Master a parte adulti che è importante che il Master non sia il Dio assoluto del gioco e che tutti debbano contribuire e lo si dice tranquillamente cioè penso durante la sessione 0 vedete ragazzi come vi ho detto ormai non mi arrabbio più spengo e riaccendo non so cosa sia succedendo dovremo trovare una soluzione perché è follia sta roba qua noi giochiamo D&D con fabula ed è perfetto una parte di me è morta leggendo questa frase ma male non mi insulto non insulto più la chat perché ho deciso che non voglio più insultare la chat per questione di rispetto e anche perché non è giusto ma Bonzo mi hai ammazzato cioè proprio ma 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 come se mi hai fatto molto male ma in che senso giochi ma in che senso scusami giochi D&D con 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 fabula no lo so Chris no 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 mi è andato mi è andato in 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 404 il cervello in questo momento comunque weird damn scherzi a parte trovi l'edizione come ti dice come ti dice puoi provare a giocare ehm sia Ose che che Dragonbane ci sono le le regole introduttive sia sul nostro sito sia di Ose sia del quick start di Dragonbane quindi se tu sei fan della 3.5 provalo ehm non c'è nessun tipo non c'è nessun tipo di problema vedi come come ti trovi però conoscendoti se sei un fan della 3.5 dubito che ti piaccia un gioco come Ose Ose è esattamente quella scatola rossa e quindi magari hai avuto ammogio di giocarci tantissimo e lo conosci bene allora non nel senso meccanico sia chiaro ma come impostazioni personaggi ambientazione anche perché per molti giocatori è stato l'unico modo di trasportarli a un sistema che preferisco giocare non capisco Bonzo non non riesco a capire che cosa intendi perdonami cioè fabula ha la cosa bella della meccanica dei punti fabula della creazione condivisa e via e via dicendo no Bonzo però cosa fai fai la creazione condivisa però usi il sistema di D&D così può andare benissimo se siete contenti va benissimo cioè alla fine ragazzi che sia chiaro D&D quinta edizione è un gioco della madonna cioè c'è stato dietro un game design pazzesco è bellissimo io ad esempio ho amato D&D quarta edizione mi sono sfondato con una bellissima campagna di Eberon in quarta edizione la D&D quando è uscito dieci anni fa è stato un capolavoro la quarta edizione letteralmente un capolavoro quindi non nicchè dieci anni sono passati in marco la quarta edizione quando ti ricordi quando abbiamo giocato lo star 3 set di D&D a casa di Claudio la quinta della quinta della quinta hai parlato solo di quarta no prima ho parlato la quarta ho detto la quinta è uscito dieci anni fa si ma entriamo la quinta scusami dieci anni sono passati si ma sono passati dieci anni figa dieci anni si lo so vabbè cosa c'entra ma mi vuoi bene da trenta è diverso non mi vuoi bene si lo so mi odi però è sempre un sentimento molto forte ecco vedi fabula ad esempio so che è ironico da dire ma per chi ama la 3.5 è molto meglio perché puoi avere una personalizzazione del personaggio incredibile poi il sistema è totalmente diverso ma la 3.5 perché piaceva tanto perché potevi veramente con le classi di prestigio crearti quello che volevi quello che volevi proprio cioè quindi ecco questo qua ad esempio si provola però cioè comunque è super crancioso fabula è un jrpg ragazzi cioè la combo si cerca la combo devastante però con la velocità di realizzazione di una scheda che è un decimo di quella per la 3.5 provati le one shot weirden di dragonbane o se verrai al play provati sia dragonbane che ose al tavolo così vedi se ti può piacere diciamo che utilizzano reskin e l'adattamento delle idee di classi e razze per giocare quelli che sono i canoni classici ai forgotten realms come mostri personale ah quindi tu usi fabula però ambientato nei forgotten realms o o o cioè quindi il sistema è quello di fabula non è quello di dnd o o o no ma allora ma allora stai giocando a fabula non stai giocando a dnd no è una cosa totalmente diversa usi fabula in un'ambientazione preesistente come ho fatto la mia campagna lunghissima di fabula utilizzando l'ambientazione di legend of heroes trial of cold steel adesso stai giocando a fabula no ma lo fai benissimo cioè se ti piace per l'amor di dio però è fabula cioè la cosa bella di fabula è innanzitutto il mondo ve lo create voi quindi che ti frega cioè che si chiami forgot the realms o il mondo di leocantia non cambia nulla la cosa la cosa bella è il sistema di fabula è la libertà che hanno i giocatori l'agency che hanno i giocatori quindi va 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 benissimo cioè fai benissimo allora l'importante ragazzi è comunque divertirsi anche per weird che sembrava che fosse arrabbiato con lui altre cose assolutamente no anzi eccoci qua ecco è saltato tutto Marchino è appena andato via è saltato tutto siccome è Marchino che mi state lanciando le maccumbe adesso l'ho riaccesa ok adesso è partita la spengo riaccendo e riparto non c'è senti non è che è calda adesso mettiamo mettiamo impostazioni iniziali così va tutto quanto bene però è successo non ci hanno toccato nulla è venuto fuori così dopo ci ho smanito io mi stai zoomando allora lo so ma per molti giocatori la libertà è faticosa per le prime sessioni usare il contesto era abituale e piano piano ci stanno prendendo la mano assolutamente assolutamente cioè ripeto la cosa importante è che voi siate a vostro agio al tavolo che giocate giochi che vi piacciono e che possiate fare quello che volete il resto va tutto in secondo piano assolutamente allora rullatrici e rullatori sono le sette e un minuto siamo in live da due ore off topic stai a domanda di morante dai rispondo alle ultime domande off talking per fabola ipotesi natural fantasy a lucca o prima si accennava ad un nuovo schermo del master allora no non ipotesi assolutamente sicuro natural fantasy a lucca nuovo schermo del master ma cosa sappiamo quando andiamo in stampa o no domanda no non lo sappiamo dipende da quanti soldi ci date prima esatto dipende da quanti soldi ci date prima comunque appena appena andiamo in stampa assolutamente stampiamo lo schermo del game master non sappiamo una data ma ipoteticamente entro il 2024 sicuramente domanda un po' più tecnica in fabola ci sono moltissime meccaniche da jrpg ma c'è una meccanica particolare di un qualche videogioco che vorresti aggiungere a fabola che non ha ma ci sono quelle per me più fondamentali ovvero le tecno sfere le limit break cioè praticamente tutto quello che mi interessa ecco mi piacerebbe vedere magari un manuale futuro che porta i personaggi dal livello 51 al 99 non sarebbe male allora visto che il manuale invece che la scatola di dragon bale anche la campagna inclusa nella scatola sarà pubblicata a parte allora dentro il manuale c'è un'avventura la campagna che è divisa in sessioni sarà un prodotto futuro per gli anni che ho sono anche delle idee estrema del gdr nel senso che un gioco di ruolo si può anche giocare intorno a un tavolo senza manuali o regole ma improvvisando con qualche dado come si faceva da piccoli con i soldatini versus peluche sono d'accordissimo ma siamo vecchi la combo moon di crono trigger allora sì però lì in realtà c'è coloro boros nel techno fantasy un qualcosa del genere io aspetto solo favola tactics non posso dire nulla vedo Emma stapparsi pochi capelli e ha dei buchi che potrebbero fare i personaggi livello 99 è tostissimo da bilanciare ma infatti lavoro di Emma quindi c'è ma va benissimo che lo fa Emma e lo devo impazzire io va la grandissima bene ragazzi dai che abbiamo oggi è stato una bella live il need news veramente bello cioè questi tre format funzionano bene siamo molto molto contenti quindi allora torniamo a noi settimana prossima noi ci vediamo lunedì per il need details devo vedere il timone della comunicazione di cosa parleremo non lo so però arriverà lunedì la needs letter con il programma della settimana vi ricordo che la needs letter per iscrivervi ve lo lascio qua ve lo scrivo qua aspettate così almeno op tac needs letter così trovate tutto quello che volete sulla newsletter lunedì e giovedì dopodiché mercoledì andremo avanti con la seconda sessione dei ratti di campo di grano la nostra campagna di mouse reader per il format need play e invece il giovedì altro appuntamento con need news dove vediamo che cosa succederà il prossimo anno nel campo dell'editoria internazionale dei nostri partner o anche dell'update dei nostri dei nostri dei nostri prodotti questa sera invece io finirò la campagna di richiamo di Cthulhu sui tracci di Cthulhu scusatemi e poi iniziamo la nostra campagna di Ose e invece poi settimana questo weekend non faccio giocate né niente quindi settimana prossima invece che c'è anche Pasqua magari farò giocare molto molto di più il weekend aspetta Nico sta scrivendo una cosa figa sono un professore delle scuole medie sto utilizzando Colossol per un laboratorio di scrittura creativa facendole dare ai ragazzi un diario di avventura sta venendo una figata quindi grazie ma grazie a te Nicros queste sono cose bellissime da sentire veramente bellissime dopo metto a posto io per me anche l'avventura grazie però sono contento grazie a te Nicros per trasmettere sia una passione nel gioco di ruolo sia utilizzare il manuale di Colossol come scrittura creativa sono contento e spero che i tuoi allunni si divertono ragazzi e ragazze detto ciò io vi ringrazio grazie mille per essere stati con noi scusate per l'inconveniente con la telecamera ma siamo comunque degli artigiani anche in questo quindi c'è la noi siamo un'industria siamo artigiani è sempre vero noi siamo proprio artigiani Marco c'è proprio artigiani quindi come tale abbiamo l'obbligo del banco quindi come tale abbiamo l'obbligo del banco io vi ringrazio domani ovviamente vi spammerò come è andata l'inizio della sessione della campagna di questa sera vi do un abbraccio a tutti quanti grazie mille e vi ricordo ovviamente di ruolare duro sempre di passare un buon weekend noi ci vediamo lunedì con il Tales ancora grazie mille a tutti quanti ciao grazie mille